We Care è un progetto che la nostra amministrazione ha accolto con una certa curiosità. È riuscita però attraverso la collaborazione degli organizzatori e dell'amministrazione appunto a coinvolgere un certo numero di persone, di associazioni e soprattutto le scuole. Resta sul territorio un'attività di inclusione che era quella a cui noi diciamo che tenevamo di più, ci impegniamo a mantenerla attiva e quindi usufruibile. Ringraziamo tutti quanti che ci hanno dato questa possibilità e speriamo in futuro di collaborare con altri progetti.